Ecco, quello che vi ho detto finora è stato basato su varie fonti, per cui è probabile che qualcuno voglia approfondire per conto suo e qui avete i link a tutte le fonti su cui è stata basata la mia discussione sugli aspetti del contagio e anche sugli aspetti delle problematiche audio-video della didattica a distanza. Ecco, sono tutti degli articoli di un certo interesse, adesso però vorremmo aggiungere qualcosa in più e in particolare parleremo di mascherine. Ecco, mascherine sì grazie, qualcuno di voi si domanderà perché questa immagine di un negozio di parrucchieri, che cosa c'entrano con le mascherine, perché sono così importanti? Beh, in realtà sono assolutamente importanti perché tra le diverse attività lavorative che comportano dei rischi, sicuramente quella dei parrucchieri è un'attività lavorativa con dei rischi alti, perché non può essere fatta a distanza, deve essere fatta in presenza e per di più, per un certo periodo di tempo c'è una vicinanza fisica tra il cliente e il parrucchiere o la parrucchiera. Ecco, allora, diciamo, in un panorama che ha diversi aspetti preoccupanti è bello poter dare almeno qualche buona notizia. Ecco, la buona notizia è questa di un caso di due stiliste, di due parrucchieri o parrucchiere adesso non è precisato, che hanno avuto il coronavirus e si sono infettati mentre lavoravano e quindi mentre erano a contatto con i clienti. A questo punto sarebbe stato lecito aspettarsi una diffusione del contagio e invece, qui viene la buona notizia, pur essendoci stati almeno 139 clienti, nessuno dei clienti è poi risultato positivo. Com'è stato possibile, diciamo, questo risultato così favorevole? Sia, diciamo, i parrucchieri che i clienti indossavano le mascherine. Ecco, questo, diciamo, in qualche modo ci dà una conferma empirica del fatto che le mascherine possono fare la differenza. In base a quello che avevamo visto prima, è chiaro che senza mascherine sarebbe stato inevitabile una notevole diffusione del contagio, mentre invece in questo caso l'uso di mascherine ha completamente bloccato il contagio. Ecco, questo è, diciamo, l'articolo, il comunicato apparso sul sito del CDC statunitense, il Centers for Disease Control and Prevention, in cui, appunto, dice che, avendo seguito le raccomandazioni di fare uso di maschere, in particolare potevano essere maschere chirurgiche, quelle, diciamo, più più semplici, oppure maschere N95, la FFP2, o anche solo quelle di tessuto. Ecco, questo in effetti è riuscito a evitare un grande problema. Questo ci dà un attimo di respiro perché ci dà la speranza di poter, in qualche modo, gestire delle interazioni anche in ambienti chiusi senza necessariamente, diciamo, contagiarci. Ecco, da questo punto di vista è bene avere un approccio scientifico alle misure precauzionali, perché in molti casi si è data molta enfasi al discorso della distanza. Il discorso della distanza che in Italia tende ad essere un metro per l'università si è detto che il metro poteva diventare 0,9 cm, all'estero tipicamente più che un metro si parla di due metri, però che sia un metro o che sia due metri è vero che con questa distanza in qualche modo si è tutelati, per cui, per esempio, a due metri di distanza potremmo fare a meno di indossare le mascherine. Ecco, l'evidenza, diciamo, scientifica per i due metri in realtà è abbastanza debole, perché non è solo una questione di distanza, ma è anche un problema di mettere insieme i diversi fattori di rischio. In precedenza abbiamo già visto che è la durata dell'esposizione quella che determina in qualche modo il pericolo e quindi, come osserva questo articolo apparso sul British Medical Journal, il rischio varia con l'affollamento, varia col tempo di contatto, il fatto che si abbiano o no le mascherine, queste possono fare una grande differenza, l'abbiamo appena visto, e nelle situazioni più rischiose, cioè al chiuso, con scarsa ventilazione, molto affollamento, un tempo di contatto prolungato e senza mascherine, come potrebbe essere in un bar affollato e un nightclub, non ci sono due metri che tengano. Questo, diciamo, è un po' la morale della favola. E in questo articolo c'è anche questa figura, abbastanza, diciamo, facile da capire e anche interessante, in cui non c'è una valutazione quantitativa ma qualitativa, perché a dire il vero, diciamo, noi possiamo tentare di dare una stima della probabilità di contagio, ma di fatto siamo più capaci di dire che certe situazioni sono più pericolose o meno pericolose di altre. Poi probabilmente in questo momento sarebbe difficile dire se in certe situazioni la probabilità di contagio è del 10% o del 15% o del 20%. Ecco, in questo caso vedete, in questo grafico, che nella prima colonna ci sono situazioni di basso affollamento, nella seconda colonna di alto affollamento e poi ci sono varie situazioni, quindi qui in basso senza mascherine contatto prolungato, senza mascherine contatto breve, con mascherine contatto prolungato, con mascherine contatto per un breve periodo di tempo. Ecco, la cosa che si vede subito è che senza mascherine la situazione, soprattutto nella situazione di alto affollamento, è sostanzialmente, mi verrebbe da dire disperata, nel senso che il livello di rischio effettivamente è alto. Naturalmente le cose migliorano un po' se siete all'aperto e se, diciamo, c'è una buona ventilazione, però in ogni caso il rischio va al medio, al rischio elevato. Se c'è poco affollamento le cose vanno un po' meglio, così, un po' meglio, però permangono le situazioni di rischio, per cui se siete senza mascherina, avete anche i due metri, ma la situazione è che siete in un posto chiuso, con una situazione poco ventilata, beh, insomma la situazione può essere a rischio. E allo stesso modo qualche rischio c'è anche all'aperto e in situazione ben ventilata, a seconda dei comportamenti che state tenendo. Perché è evidente come il fatto di parlare, gridare, cantare, ricordate il caso del coro, quel caso molto clamoroso in cui con un distanziamento notevolissimo c'è stato, diciamo, un contagio massiccio. Ecco, se voi, diciamo, gridate o cantate o parlate, automaticamente aumenta il pericolo di contagio. Questa è la ragione per cui io in aula continuerò a tenere la mascherina, tutte le volte che andrò in aula, perché essendo il docente che parla, diciamo, sono quello nella condizione, come dire, di diffondere di più delle particelle, in sospensione nell'aria, e è la ragione per cui viene chiesto anche a voi di tenere la mascherina durante le lezioni. Insomma, e tipicamente ogni volta che siete dentro gli edifici universitari al chiuso è abbastanza, diciamo, necessario che la mascherina venga tenuta. In particolare la situazione è veramente critica tutte le volte che i contatti avvengono per un tempo prolungato, quindi per alcune ore, come in effetti per alcune ore, vi può capitare di permanere nei locali universitari o dentro un'aula a seguire una lezione. Se il tempo diventa meno prolungato e c'è uno scarso affollamento, la situazione è un po' migliore, però vedete che ancora ci sono situazioni possibilmente a rischio, quindi se voi state zitti con la vostra mascherina in un posto poco affollato va abbastanza bene, però state attenti che sia ben ventilato, perché se è scarsamente ventilato la situazione non va bene e tutte le volte che siete in una situazione di alta occupazione le cose naturalmente peggiorano. Comunque rimane il fatto che indossando le mascherine, anche con un contatto prolungato, se c'è una bassa occupazione la situazione può andare bene, però anche qui scarsamente ventilato, gente che grida o che canta, di nuovo si ripropongono delle situazioni di rischio. Ecco, questo direi che è un grafico interessante perché vi dà anche qualche indicazione su cosa che potete fare con una certa tranquillità, quindi entrare in un negozio per poco tempo indossando la mascherina, evitando che nel negozio ci sia affollamento perché si fa la coda fuori, stando ben distanti anche fuori e così via, sicuramente può essere di aiuto. Ecco, purtroppo c'è una situazione in cui non si possono tenere le mascherine ed è quando si mangia e da questo punto di vista anche qui, questione del distanziamento ovviamente aiuta, ma se il luogo è chiuso, dei pericoli ci sono. Questo è il famoso caso del ristorante Cinea in Cina e qui vedete la mappa dei tavoli, vedete il paziente diciamo che era infetto, questo col cerchio riempito in giallo e vedete con i cerchi rossi tutti gli altri che si sono contagiati. Allora, si sono contagiati quelli che erano seduti al tavolo, ma qui vedete alcuni che erano vicini, ma qualcuno che era anche dalla parte opposta del tavolo e si sono contagiati anche persone che erano nei tavoli adiacenti. Anche qui ovviamente sarà dipeso anche dalla sfortuna, naturalmente, ma anche dal tempo per cui si era rimasti nel ristorante, però quindi una situazione in cui per esempio si deve mangiare e quindi non si possono portare le mascherine e si sta in un luogo chiuso, chiaramente è una situazione che comporta dei rischi. passiamo al tema quindi che forse a noi sta più a cuore, che è quello del riaprire le università, quindi a che condizioni si può riaprire le università, cosa possiamo imparare dalle esperienze che hanno fatto gli altri. Qui sotto vedete una mappa degli Stati Uniti e sono i college in cui ci sono dei casi di coronavirus. Ecco, questa è la mappa che era stata pubblicata il 25 agosto, all'epoca negli Stati Uniti alcuni college avevano riaperto, non senza polemiche, nel senso che alcuni avevano deciso di non riaprire e di passare direttamente alla didattica a distanza, altri invece avevano pensato di riaprire e di poter tenere sotto controllo la situazione. Il 25 agosto questa era la situazione, quindi c'erano 26.000 casi, più di 750 college coinvolti e i puntini che vedete sulla mappa sono rossi con più di 100 casi, arancioni con 50-99 casi, gialli un po' più scuri con 10-49 casi, giallo chiaro con meno di 10 casi. Un mese esatto dopo, il 25 settembre, si è passati a più di 130.000 casi, 1.300 college coinvolti e questa qui sembrano un po' gli Stati Uniti con una specie di morbillo, insomma, quindi vedete che si moltiplicano i casi. Come è stata valutata questa politica di riapertura? Ecco, questo è apparso su una rivista scientifica, sempre BMJ, una rivista abbastanza stimata, in cui questa lettera, questo editoriale sottolinea come l'apertura, la riapertura dell'università sia un'operazione ad alto rischio e in particolare, pensando alle nazioni che ancora non l'hanno riaperta, si fa una valutazione di quanto è successo negli Stati Uniti. Le considerazioni sono che l'esperimento, quello che, diciamo, si può tranquillamente definire un esperimento, sembra essere stato, come dicono qui, un disastro. Quindi, diciamo, sono un po' esplosi i casi dappertutto, dove c'è stata la riapertura. C'è stata anche qualche università che dopo poco, diciamo, meno di due settimane che aveva riaperto, a causa dell'esplosione dei casi, ha dovuto mandare tutti a casa e dire che sarebbero andati avanti con la didattica a distanza. Ecco, quali sono i problemi? Ecco, naturalmente qualcuno potrebbe sottolineare la diversità tra gli Atenei statunitensi e quelli italiani. Gli Atenei statunitensi sono caratterizzati dal campus, quindi dal fatto di avere gli studenti che vivono in una situazione di alloggi studenteschi, quindi staccati dalle loro famiglie, però devo dire che, per esempio, Pavia è forse tra tutte le università italiane una di quelle che si avvicina di più a questo modello grazie alla struttura dei collegi pavesi che accolgono non pochi studenti. Quello che sembra evidente, e non dovrebbe sorprenderci in base a quello che abbiamo visto in relazione alle situazioni a rischio, le situazioni a rischio sono situazioni ad alto affollamento, quello che sembra essere successo è che si sono creati eventi in cui ci sono stati diffusioni massicce del contagio. Questi eventi tipicamente erano ritrovi come feste studentesche, quindi gli studenti si sono ritrovati, hanno festeggiato come hanno sempre fatto tutti gli anni, soltanto che in questo caso molte di queste feste sono diventate l'occasione con cui il contagio si è trasmesso e si è diffuso. Ecco qui c'è un aspetto interessante che di fronte a questa crisi in qualche modo qualcuno ha già trovato la soluzione, qual è la soluzione? Trovare un capo respiratorio e quindi, come dice questo articolo apparso su The Chronicle of Higher Education, è iniziato lo scaricabarile sugli studenti, quindi il biasimo o dare la colpa agli studenti, quindi si apre l'università, gli studenti, qui vedete proprio la foto di una di queste feste in cui ci sono tanti studenti, adesso qui non si vede bene ma alcuni hanno la mascherina, altri no, e a questo punto si crea subito un focolaio, più di un focolaio e allora i dirigenti dell'università danno la colpa agli studenti, dicono è colpa vostra se adesso ci tocca chiudere tutto. Ecco qualcuno a mio parere correttamente ha detto insomma non è un modo corretto di procedere, nel senso se tu metti a punto un piano di riapertura che non sta in piedi e che non ha le tutele, le sicurezze e poi questo piano fallisce è troppo comodo dare la colpa agli studenti, in qualche modo in qualsiasi piano di riapertura non può basarsi su un'ipotesi illusoria che tutti seguono le regole in maniera stringente, quello che in qualche modo con parole inglesi si chiama la compliance, cioè l'aderenza alle istruzioni da parte dei soggetti coinvolti, è noto che la compliance non è mai del 100% e quindi nel momento in cui metti in piedi un piano devi avere una stima realistica di quella che può essere l'aderenza alle regole da parte dei soggetti coinvolti, quindi qualcuno invece ha replicato, qui sono due tweet, nel primo tweet si dà la colpa, così diciamo che praticamente gli studenti renderanno impossibile la didattica in presenza a causa del loro comportamento scapestrato, così, e qui invece la replica dice invece di dare la colpa agli studenti sarebbe meglio capire perché li avete messi diciamo in una situazione di rischio potenziale in cui probabilmente sarebbero finiti molto facilmente per fare delle stupidaggini, insomma che poi alla fine le stupidaggini rimangono, quindi diciamo la mia raccomandazione è ovviamente state attenti perché la mia impressione è che ovviamente girare nei locali dell'università, venire nelle aule e asseguire le lezioni può avere una certa dose di rischio ma probabilmente tutto sommato limitata, nel senso se state seduti distanziati con la mascherina, il docente alla mascherina, probabilmente non è questo il momento più pericoloso, il momento più pericoloso è per esempio il momento del pranzo, l'uso dei bagni in comune, girare nei corridoi e comunque fermarsi, aggregarsi e forse anche stare anche fuori dall'università, senza tutto si formano dei gruppi, ci si mette a parlare, pensando di essere all'aperto non non si indossa la mascherina, quindi diciamo far circolare gli studenti all'università dà infinite possibilità di contatto, di interazione e qui dobbiamo in qualche modo confidare nella disciplina degli studenti che tengono sempre la mascherina, che stiano attenti e così via e sappiamo che questo non accadrà, quindi comunque ovviamente l'invito è quello state molto attenti, però è chiaro che più gente circola, tra l'altro che viene da diversi posti, più possiamo fare un bel rimescolamento di virus, che forse non è la cosa più conveniente. Vediamo invece cosa dicono in Inghilterra, in Inghilterra c'è uno studio pubblicato da questo SAGE, SAGE sta per Independent Scientific Advisory Group for Emergencies, quindi è un gruppo indipendente dal governo, di alto profilo scientifico, potete andare in rete a verificare i nomi e le competenze delle persone, i quali diciamo come servizio alla collettività cercano di mettere a disposizione le loro conoscenze per valutare quale sia il modo scientificamente fondato di affrontare l'emergenza, in questo caso l'emergenza epidemica e hanno in particolare varato un documento proprio sulla riapertura delle università. Ecco, qui estraggo alcuni passaggi che mi sembrano interessanti, forse quello interessante e forte è quello che dice che per proteggere la sicurezza degli studenti e dello staff, cioè del personale, tutti i corsi universitari dovrebbero essere offerti in remoto, a meno che non siano di tipo pratico, di laboratorio, quindi diciamo in qualche modo riservare l'attività didattica in presenza a quel tipo di esperienze, lezioni, eccetera, che effettivamente risentono di più del fatto di dover essere fatte a distanza, che quindi ne subirebbero un grave danno. E quindi il default, qui la cosa che si dice, il default dovrebbe essere un remote learning, un apprendimento a distanza di eccellente qualità. Di nuovo, non tanto forse perché sia pericolosa la lezione in sé, ma quanto perché mettere in circolo questi studenti, farli incontrare continuamente, incrociare, usare gli stessi bagni, andare a mangiare magari la stessa mensa e così via, significa creare un numero di occasioni di contatto a medio-alto rischio, a seconda poi del fatto che indossino la mascherina, la tengano sempre e così via, che invece potrebbe essere evitato. Ecco, naturalmente in alcuni casi è chiaro che o si decide altrimenti o comunque non è possibile diciamo evitare la presenza, in questo caso ci sono anche delle raccomandazioni per una covid safe university, per un'università sicura dal punto di vista del covid. Una raccomandazione interessante sarebbe che la welcome week, la settimana di benvenuto, venga svolta sostanzialmente a distanza e che si evitino le feste delle matricole e cose del genere, spero che anche a Pavia si eviteranno e che quindi ci dimostriamo o vi dimostrate più responsabili dei vostri colleghi statunitensi o anche inglesi. Naturalmente l'uso di tutte le forme di mitigazione, quindi mascherine, distanziamento di due metri almeno, la ventilazione, credo che almeno gli impianti di condizionamento qui della nave siano effettivamente gestiti in maniera tale da avere sempre l'aria esterna, quindi di non fare ricircolo d'aria e quindi avere il massimo ricambio di aria, l'uso di protezioni individuali e la pulizia regolare. L'altra cosa sono le bolle residenziali, per cui se alcuni studenti stanno nella stessa residenza è bene che stiano sempre in quel circolo di persone cercando di non intersecare altre bolle, però chiaramente quando si va a lezione le classi si formano e si disfano perché non si seguono tutti gli stessi corsi e quindi anche questo diventa un'occasione per socializzare con qualcuno che sta fuori dalla bolla e che da un lato è molto piacevole e dall'altro insomma può essere un problema. Ecco, qui si suggerisce anche di in qualche modo chiedere agli studenti di sottoscrivere un patto, adesso non so in che misura a voi sia stato richiesto, però in qualche modo dovreste essere consapevoli che un patto, se non esplicitamente, almeno implicitamente vi viene richiesto un patto di responsabilità. Ecco, parliamo un attimo quindi di rischi e di scenari. Ecco, da un certo punto di vista è chiaro che il Covid sembra colpire meno duramente le persone giovani e quindi questo da un lato è una cosa positiva, dall'altro sembra essere diciamo un elemento che rende più difficile chiedere ai giovani una aderenza a comportamenti prudenti, perché se uno rischia la vita sicuramente sta più attento, se invece dice mi prendo un raffreddolo, un'influenza, una cosa da cui mi riprendo, dice vabbè perché devo stare sempre a stare attento, negarmi anche delle cose piacevoli e così via. Ecco, in realtà sappiamo un po' poco di questo virus e col tempo vengono fuori anche degli aspetti spiacevoli, per esempio sul cosiddetto long Covid, cioè c'è qualcuno che ha delle forme di Covid o di, diciamo in qualche modo, postumi del Covid che durano per mesi e mesi, quindi anche nel caso di una forma lieve ci sono poi una serie di sintomi, di disturbi, di stanchezza, di affaticamento, di vuoto alla testa e così via, che fanno molta fatica ad andare via e che colpiscono anche persone giovani. Io qui ho trovato alcuni articoli del Guardian, ma se ne è parlato anche in giornali medici di un certo spessore, quello di destra è un articolo di Nature, in cui per esempio si dice che mesi dopo l'infezione alcune persone sono ancora, diciamo, a combattere con senso di fatica, danno ai polmoni e molti molti altri sintomi. Un caso che mi ha colpito è questo di questa, diciamo, atleta, la quale aveva un record personale di 2,17 sui 800 metri, quindi molto brava, la quale adesso fa fatica a muoversi in casa senza andare in affanno, perché ha fatto il Covid e a distanza di mesi non ha una ripresa, eppure è una persona giovanissima, atletica, un organismo in piena efficienza. Quindi da un certo punto di vista potremmo dire che è un virus bastardo, insomma, quindi addirittura per chi lo fa in forma lieve non è chiaro se poi possa avere delle conseguenze. Tra l'altro questo aspetto del, qui li chiamano long haulers, sarebbero a lunga distanza sostanzialmente, sono i malati di Covid a lunga distanza o long Covid, pongono anche un problema dal punto di vista economico, perché la speranza è che chi guarisce poi torni in piena efficienza, ma se il coronavirus dovesse lasciarci uno strascico di migliaia, centinaia di migliaia di persone che hanno una specie di forma di invalidità alla fine, questo sconvolgerebbe anche i nostri conti economici, quindi diciamo un po' come giocare col fuoco, giocare con questo virus. E sempre lungo la stessa linea, un altro dato che è emerso è la possibilità di avere dei danni al cuore persino se sei asintomatico. Ecco, da questo punto di vista direi che eviterei in ogni modo i Covid party, insomma, quindi l'idea di fare un bel Covid party con un infetto così ce lo prendiamo, tanto siamo giovani in salute e non ci fa niente, forse può non essere la migliore delle idee, perché non abbiamo capito ancora tutto di questo virus e alcune cose che stanno emergendo in effetti sono abbastanza disturbanti, potremmo definire in questo modo. Ecco, quindi da un lato diciamo è un po' come una roulette russa, ovviamente spero, mi auguro che sia comunque una roulette russa in cui la probabilità di rimanere colpiti sia comunque bassa, anche se queste forme diciamo un po' così di lungo periodo, danni cardiaci in effetti sono inquietanti, ma penso che una delle ragioni principali per stare attenti è una ragione di responsabilità sociale, nel senso che anche se fosse vero che alcune categorie, per esempio per età, non subiscono gravi danni dalla malattia, è chiaro che contribuendo a diffonderla possono creare un problema sociale più vasto. Credo che tutti voi abbiate nozioni di quello che sta succedendo in alcune nazioni europee, qui adesso faccio una carrellata di alcune, quelle un po' preoccupanti, questi qui sono i casi giornalieri in Spagna, come vedete, a un certo punto sono diventati più alti persino del picco di marzo e effettivamente ci sono dei problemi da quello che si sente per quel che riguarda le terapie intensive, anche la mortalità sta in qualche modo rialzando la testa, questi sono i casi in Francia che sono clamorosamente più alti, quindi qui siamo anche in questo caso sopra i 10.000 casi giornalieri, clamorosamente più alti di quelli che c'erano in marzo e in questi casi si comincia a parlare di restrizioni, cioè in qualche modo bisogna cercare di fermare questa seconda esplosione. Questo è quello che succede nel Regno Unito, un po' meno peggio di Francia e Spagna, però anche qui sono mai superati 5.000 casi giornalieri. E da ultimo una nazione non europea che è Israele, in Israele che in qualche modo sembrava una nazione molto virtuosa che aveva superato benissimo la prima ondata con effetti del tutto marginali, invece sta subendo un contraccolpo molto forte con la seconda ondata, vedete che è arrivata a superare a un certo punto 10.000 casi giornalieri. Israele per darvi un'idea a una popolazione paragonabile a quella della Lombardia, quindi rispetto all'Italia una nazione piccola come popolazione e la conseguenza di questa seconda onda in Israele è il ricorso al lockdown, quindi si sta iniziando un periodo di tre settimane di lockdown abbastanza severo e in questo ritaglio vedete che il punto critico ovviamente non sono tanto i positivi in sé perché adesso al di là dei danni cardiaci, effetti di lungo periodo, diciamo a gran parte poi dei positivi addirittura sono asintomatici, ma sono i pazienti seri, qui se ne parla di un 669 pazienti seri e quelli diciamo sui ventilatori, quindi in terapia intensiva, 167 pazienti in terapia intensiva perché il timore è che l'esplosione dell'epidemia a un certo punto saturi i posti letto in terapia intensiva come di fatto stava succedendo in Italia a marzo e a quel punto tutti coloro che avrebbero avuto bisogno della terapia intensiva in realtà praticamente sono destinati a morire senza poter fare il corso alla terapia intensiva, anche se poi comunque andare in terapia intensiva significa comunque avere una probabilità di morte probabilmente intorno al almeno 30-40% e comunque anche chi poi se la cava avendo avuto una forma così severa ha una ripresa per niente facile. Vediamo quindi a questo punto qual è la situazione dell'Italia, questa è la situazione dell'Italia che effettivamente è un po' meglio di quelle che abbiamo visto in precedenza, quindi noi per ora riusciamo a stare sotto i 2000 casi giornalieri, le cose sembravano andare abbastanza male a metà agosto, da metà agosto in poi, adesso ultimamente la crescita sembra rallentata fortunatamente, però non abbiamo ancora nessuna idea di quale sarà l'effetto dell'apertura delle scuole e poi anche dell'effetto dell'apertura delle università. Ecco, guardiamo più da vicino i dati italiani perché dicevamo non sono tanto i positivi che ci preoccupano quanto invece sono i ricoveri in ospedale e le terapie intensive perché i posti letto in ospedale e maggior ragione le terapie intensive sono in numero limitato e nel momento in cui non fossero più bastanti si viene a creare quella situazione che abbiamo già conosciuto in Lombardia di persone che stavano male a casa ma non c'era un posto in ospedale oppure di persone che avevano bisogno di terapia intensiva e a un certo punto non c'erano più posti in terapia intensiva quindi diventava veramente critico garantire una cura. Ecco, se guardiamo a questo grafico da un certo punto di vista possiamo sentirci rassicurati perché vediamo che è vero che c'è una crescita, questa crescita che a metà agosto cominciava ad assumere dei contorni inquietanti poi in qualche modo se non altro non è esponenziale, sembra essere una crescita circa lineare e la cosa interessante è che pur essendo cresciuti molto i positivi i ricoveri non sono cresciuti altrettanto e neppure le terapie intensive. Questo diciamo da qualcuno potrebbe essere interpretato come il virus che è diventato buono tra virgolette, in realtà questa è una tesi tutta da dimostrare mentre invece è abbastanza evidente che la popolazione dei positivi ha un'età media molto inferiore a quella che era l'età media nei mesi di marzo-aprile e quindi gli esiti sono ovviamente diversi, quindi se il virus si sta diffondendo tra i giovani forse anche in seguito ai diversi comportamenti durante le vacanze, tra di loro sono di più gli asintomatici, meno quelli che vengono ricoverati e ancora meno quelli che finiscono in terapia intensiva. Io direi che a questo punto possiamo in qualche modo anche cominciare a mettere mano ai dati, quindi entriamo quasi volendo nel vivo del corso di identificazione dei modelli e analisi dei dati, perché possiamo fare un'osservazione interessante che un'epidemia di questo tipo, diciamo per un'epidemia di questo tipo i dati si vedono meglio usando un diverso tipo di scala. Guardando i dati così, l'impressione è che la situazione sia abbastanza tranquilla. In realtà un'epidemia di questo genere risulta meglio analizzata se i dati vengono disegnati in scala logaritmica e quindi adesso vi mostro i dati in scala logaritmica. In particolare faccio riferimento solo, non più ai positivi, ma faccio riferimento ai ricoverati, quindi ricoverati con sintomi, ai pazienti in terapia intensiva e ai decessi. Cosa è cambiato rispetto al grafico precedente? Ho aggiunto i decessi e poi invece sull'asse delle Y dove c'è il numero dei pazienti, invece che avere la scala naturale ho la scala logaritmica, quindi qui è 10, qui è 100, qui è 1000, qui è 10.000 e qui è 100.000. Ecco, vedete che il grafico diventa molto diverso e tra l'altro in qualche modo anche ci illumina su alcuni aspetti dell'epidemia. La cosa forse più impressionante di questo grafico è vedere che queste tre curve si muovono diciamo, grossomodo in parallelo. Ecco, anche se poi adesso osserveremo che ci sono degli scostamenti da questo parallelismo, però lo vedete soprattutto in questa prima fase e poi nella fase successiva al lockdown, vedete che qui scendono lungo tre rette quasi parallele tra di loro. Cosa significa che in scala logaritmica le curve si muovono in parallelo? Se la loro distanza rimane costante, in realtà siccome stiamo usando i logaritmi, la differenza di due logaritmi è un rapporto, quando andate in scala naturale, vuol dire che il rapporto si mantiene costante, quindi questo è abbastanza ragionevole. Ogni 100 ricoverati, diciamo che ce ne sono 10 che finiscono in terapia intensiva e di questi 10 che finiscono in terapia intensiva, per esempio, ne muoiono 2 o 3, una cosa di questo tipo. Ecco, se si mantengono queste proporzioni, le rette si muovono in modo parallelo. Ecco, qui vedete un aspetto interessante, come nei mesi estivi, in realtà le rette si sono allargate, questo corrispondeva al fatto che i pazienti diventavano più giovani, quindi mentre qui, vedete che qui c'è una decada di differenza, quindi vuol dire un paziente ricoverato su 10 va in terapia intensiva, così, qui invece si è allargata la distanza, quindi vuol dire che a parità di pazienti ricoverati la percentuale in terapia intensiva è minore. Ecco, però l'aspetto interessante ma anche preoccupante è che anche in questa fase di salita, grosso modo, le curve tendono a muoversi in maniera parallela, quindi l'aumento dei positivi, che è un'altra curva anche abbastanza parallela che sta più in alto, produce, è destinato a produrre un aumento dei ricoverati e siccome la curva delle terapie intensive si muove insieme a quella dei ricoverati, è destinato a produrre un incremento delle terapie intensive e anche un incremento dei decessi. Un altro aspetto interessante dei decessi è che vedete che è questo andamento frastagliato. L'andamento frastagliato corrisponde a una maggior variabilità statistica. E di fatto, ma qui poi lo discuteremo, insomma, proprio anche come esempio di analisi dei dati e di processi casuali, ci aspettiamo proprio, a parte questo che è un outlier, cioè qui in un solo giorno tirarono fuori dal cassetto un certo numero di decessi che chissà dove si erano dimenticati, quindi quel giorno ci fu questo picco anomalo, ma diciamo quando i decessi sono pochi ci si aspetta che siano più variabili, insomma che ci sia più volatilità, mentre invece quando il numero è alto vedete che si stabilizza, cioè le oscillazioni sono minori e lo stesso vale per le terapie intensive che sono un pochino più rumorose rispetto ai ricoverati. Ecco, facendo un'analisi sugli ultimi 14 giorni, ecco l'altro aspetto interessante è che queste curve in condizioni di, potremmo dire, di stabilità tendono ad essere delle rette. Cosa vuol dire condizioni di stabilità? Qui vuol dire che non sarà fatto ancora niente, perché ci si stava accorgendo dell'epidemia e quindi qui saliva come una retta. Salire come una retta in scala logaritmica significa crescita esponenziale, esponenziale positiva qui. Qui c'è stato il lockdown, qui avendo l'Italia sbarrata la situazione era stabile, stabile tutti chiusi in casa e vedete che le curve scendono e questo vuol dire avere un andamento esponenziale negativo, che ovviamente per noi è stato provvidenziale. Ecco, qui a un certo punto vedete che salgono e vederle salire su una retta significa un andamento di nuovo esponenziale positivo, esponenziale crescente. Per nostra fortuna la pendenza di questa retta, vedete, è molto minore della pendenza che c'era in questo punto. Però è abbastanza evidente che c'è un andamento crescente. La speranza sarebbe che non si prosegua su queste rette che io qui ho estrapolato, ho fatto un'estrapolazione basandomi sugli ultimi 14 giorni, quindi ho usato gli ultimi 14 giorni e in base agli ultimi 14 giorni ho provato a fare un'estrapolazione, estrapolazione che diciamo se le cose non migliorano dice che per i primi di gennaio avremo un migliaio di terapie intensive. La speranza sarebbe che queste curve piegassero verso il basso, ma perché pieghino verso il basso bisogna che si riducano le occasioni di contagio e purtroppo diciamo in questo momento queste curve non tengono ancora conto, perché c'è un ritardo di un paio di settimane, degli effetti della riapertura delle scuole e poi anche degli effetti, ci saranno anche gli effetti della riapertura dell'università che tendenzialmente sembrano essere cose capaci di invece aumentare la pendenza di queste curve. Ecco, questi dati fanno capire che anche se il numero dei decessi è limitato, siamo sui 20 al giorno grossomodo in questo momento, quindi uno potrebbe anche dire che ci sono molti più morti per incidenti stradali o per qualsiasi altra cosa, però siamo sulla rampa di salita, questa è la cosa che deve preoccuparci. Quindi mi sembra che è il momento di tirare un po' la morale della favola, quindi male in Francia, male in Spagna, ma anche nel Regno Unito, malissimo in Israele, in Italia per fortuna siamo più indietro, il contagio cresce ma dal grafico che avete appena visto quella crescita del contagio trascina con sé, seppure diciamo ci vuole un po' di tempo, ma trascina con sé, ricoveri, terapie intensive ed eccessi. L'età media dei contagiati che era scesa torna a salire e questo significa che verranno coinvolti in maggior misura pazienti più anziani e pazienti fragili che tra l'altro hanno da temere di più rispetto ai danni dell'infezione. La domanda, la grossa domanda è quanto si accorcerà il tempo di raddoppio con l'apertura di scuole università, quando si hanno delle curve esponenziali è abbastanza comune ragionare in termini di tempo di raddoppio o di dimezzamento, ecco nel nostro caso in questo momento il tempo di raddoppio viaggia sui 30 giorni a livello italiano, questo significa che se le cose vanno avanti come stanno andando, tra un mese ci aspettiamo di avere un po' il doppio di tutto, cioè il doppio di ricoverati, il doppio di terapie intensive e il doppio dei decessi. Ecco, l'apertura di scuole università non dovrebbe fare del bene a tutto ciò e quindi è presumibile che accorci il tempo di raddoppio, il problema è di quanto lo accorcerà, passerà da 30 ai rotti giorni a 25 o da 30 a 20 o da 30 a 15, in ogni caso in prospettiva bisogna rallentare e invertire la crescita epidemica perché arriva anche l'inverno, quindi condizioni in generale più favorevoli alla diffusione del virus anche perché si sta più al chiuso, l'accensione dei riscaldamenti crea dei microclimi più favorevoli al contagio e così via. Come si può ridurre questa crescita o addirittura invertirla? Si tratta di ridurre le probabilità di contagio, quindi bisogna evitare o limitare le situazioni più rischiose e questo l'abbiamo imparato, sono le condizioni di esposizione prolungata al virus in ambienti chiusi ed affollati o le interazioni ravvicinate senza maschera, queste hanno un certo grado di rischio anche all'aperto naturalmente. Quindi da questo punto di vista vi pregherei di tenere conto di queste cose, queste cose naturalmente hanno delle conseguenze anche su di me, nel senso che mi sembra assolutamente responsabile da parte mia offrire una didattica tale per cui nessuno si senta costretto a venire all'università, a salire sui mezzi, prendere i treni, dover andare in mensa con tanti altri studenti e così via, perché altrimenti non viene in quest'aula altrimenti non è in grado di seguire bene le lezioni. Ecco, questo mi sembra che sia una cosa di cui devo essere consapevole, anche perché non voglio che nessuno debba scegliere tra la sicurezza dei propri cari, dei propri genitori o dei propri nonni o viceversa magari doversi isolare da loro, perché sapendo di aver frequentato ambienti universitari e essersi mescolato con tante persone, per senso di responsabilità sua, a questo punto cerca di stare lontano dalle persone della sua famiglia che hanno una certa età o che hanno condizioni di fragilità. Quindi il mio impegno è quello di offrirvi una didattica anche non in presenza, tale per cui nessuno di voi si senta costretto a fare una scelta che fa aumentare i suoi rischi o i rischi della sua famiglia, perché altrimenti fa fatica a usufruire della didattica del mio corso.